Torniamo ad occuparci del porto di Campomarino di Marugio dopo le vicissitudini degli ultimi giorni. Una buona notizia, dopo aver ricevuto più di 3 milioni di euro destinati al dragaggio a 5 metri di profondità di tutto il porto, il comune di Marugio, unico nella provincia ionica, si aggiudica un altro finanziamento per ammodernare l'area a terra del porto Peschereccio, pari a 700 mila euro. Un travel lift per far entrare e uscire anche le parche più grandi dal porto, nuova illuminazione, colonine di energia elettrica e acqua e una nuova recensione per evitare occupazioni selvagge. Ce la stiamo mettendo davvero tutta, fa sapere il sindaco Longo, per far diventare il nostro porto il fiore all'occhiello di tutta la litoranea abbiamo le risorse mentali ed economiche per farlo. Ma poi lancia un avvertimento alla società privata che gestisce il porto, se non ottempererà brevissimo, agli obblighi imposti dalla regione Puglia, dimostrando con gli atti di non nuocere alla salubrità del territorio, il comune interverrà immediatamente per ridare al nostro porto la dignità che merita. Intanto c'è da specificare che la gradatoria è già stata approvata il 25 marzo e sono stati ammessi i comuni in cui la pesca costituisce un'attività determinante per lo sviluppo economico, oltre che di carattere identitario. Grazie. 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 Grazie.